Buongiorno a tutti! Allora, vi voglio ricordare prima della barzelletta che stasera 21 e domani 22 a Piazza Sonnino a Trastevere ci sarà Zelletta che vedrà tante barzellette alla festa dei novantri, non mancate, si non manca, hai capito? Allora, barzelletta del giorno, c'è sta uno che ritorna a casa, un deputato, con un macchinone super lusso arriva e entra a sto cancello, si fa tre chilometri prima di arrivare a casa, era il viale di arrivare a casa due o tre piscine olimpioniche, una cosa proprio enorme, arriva a casa, apre casa, dopo un portone elettronico c'era la moglie che stava in cucina, amore, sono tornato, oggi è una giornata fantastica Amore, sì caro, che è successo? Mi hanno fatto membro della giunta, sei contenta? Beh, mica tanto, era meglio che te faccia una giunta al membro Ahahahah